Il Festival internazionale di Sperlonga iniziamo con due grandi artiste internazionali che vengono dalla Spagna, Teresa Ior Davito e Isabella Losete. Teresa è un'artista veramente innovativa che è una dei pochi che nel mondo segue l'acquarello nell'ambito dell'astratto e del settore dell'innovativo dell'arte internazionale. Isabella lavora da tantissimi anni a livello internazionale e quindi buon lavoro ad entrambe che lavoreranno anche credo a quattro mani con i colori che sono stati offerti da arte Miranda. Grazie al Festival di Sperlonga, buona demo. Elma ha detto io devo parlare sui lavori. Il lavoro che ella fa non è una copia, non dipendere la naturalezza, ella la adora, non dipendere, adora. La sua interpretazione è molto personale, è molto interpretativa, creativa, non nel classicismo dell'acquarello. È il suo interno, il plasma, ha la carta e la quale colori è il pennello, la mano, il filo, il cur, il trazzo pur, corto. Questa è la sua interpretazione dell'acquarello. è la sua interpretazione dell'acquarello internazionale. È la sua interpretazione dell'acquarello internazionale. Signor? Signor? Signor è la sua? Signor direzione Non ho sicuro? Bé! No, 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 no. Our town is very good for the business. Yeah, the paint manufacturers love you. Our town is very good for the business. Our town is very good for the business. Our town is very good for the business. questa è un'esperienza proprio sì, perciò è un'attinenza con Axel però è l'esplosione dei colori ha fatto tante opere a questa l'attivazione ha lavorato lavorando questo questa mattina ha visto il riflesso dell'atto, dell'atto, dell'atto l'ha impressionato sì sì surprise l'attivazione è un'esplosione 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 Buon ESCE NO! ProvaPera Grazie. Perché ci sono due per il cuore. Grazie. È fantastico. L'artistica non è perfetta, moramelo. È un suerte. È un passo molto lento. No, molto lento. Di adesso, troppo, nuovo, nuovo, molto lento. Sì. No, molto lento. Sì. 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 Sì.